Il palloncino rosso di Simona Tonini C'era una volta un bambino che provava a gonfiare un palloncino rosso. Gonfiò, 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 finché il palloncino volò su in cielo. Un colpo di vento, forte, lo spinse giù, così tanto giù da arrivare a un ramo di melo. Lì si attaccò e diventò una bellissima mela rossa. Venne il giorno in cui la mela rossa, grande e grossa, si staccò dal ramo. Cadde, trasformandosi in una bellissima farfalla rossa. Dopo un po' di tempo, la farfalla, stanca del tanto volare, si posò su un filo d'erba e diventò un bellissimo fiore rosso. Un giorno un bimbo lo raccolse, voleva portarlo via. Ad un tratto, però, venne un acquazzone e il fiore, per non far bagnare il bambino, si trasformò in un gigantesco ombrello sempre rosso. Il temporale era finito. Così il bambino corse a casa, ma il prato era bagnato e non si poteva scendere. Visto che non era riuscito a portare a casa il fiore rosso, il bimbo prese un altro palloncino, questa volta giallo, e lo gonfiò, 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 finché il palloncino giallo non volò via, e tutto ricominciò. Avete mai usato tutta, tutta, proprio tutta, la vostra delicata, insistente e romantica tenacia per vedere il trasformarsi di un fiore? Simona Tonini